Ma non si ferma neanche nel napoletano, dove un paio di anni fa, e adesso non le scrivono più queste cose sui giornali, dove il papà di una famiglia che c'era una piccola carrozzeria appena dentro Napoli, lavorava lì con i figli, si è arrivato un biglietto di Equifax per 10.000 euro e la stessa cosa fa, è una stessa banda, purtroppo l'Italia ha bisogno assolutamente di voi, quello che voi state facendo in quel territorio lì è importante e se la comunità italiana in America o l'Italo-Americano può aiutare soprattutto con il premio eccellenza o anche qualsiasi altra cosa che possiamo fare per incrementare quello che è le attività tra l'Italia e gli Stati Uniti, io sono qui per voi e come me tantissimi anni. e allora sorpresa delle sorprese, insieme possiamo dire allora che come avete compreso per chi osare e chiudere, il premio è il racconto, il premio è il passion, il premio è il networking commerciale, noi l'abbiamo chiamato insieme il business and producer quando abbiamo fatto le carte di music, ma è stato interessante vedere quante cose sono nate e oggi vi annunciamo che il principe Alberto di Monaco, l'altro giorno io non potevo andare.